Arriva la patch 13.14 finalmente su server live che va a cambiare un po' di bilanciamento a livello di gioco visto che è una grossa patch bella lunga Non solo, ricordiamo, questa è la patch in cui si resettono i rank, quindi dal 19 alle 13, cioè quando state guardando questo video Dalle 13 in poi potete rancare il vostro rank resettato e dovete fare 5 placement, fine, questa è come funziona il discorso Le skin e tutti i contenuti escono il 20 di luglio alle 22, qua dice 21 perché è British Standard Time, cioè tempo in Inghilterra Siamo in Inghilterra? No, stiamo bevendo tè? No, siamo in Italia, quindi vuol dire che esce alle 10 di sera Le skin escono insieme all'evento, insieme all'arena e tutto il resto Ora, detto questo, le ranked sono state discusse, ricordiamo anche che non ci sono più le promozioni tra le leghe E adesso devi fare solo 5 placement e adesso c'è anche lo smeraldo come tier, non soltanto più platino poi diamanti rettamente La nuova modalità arena 2v2v2 è veramente fuori di testa Serio, giocate questa modalità e spammatela così cara e si rende conto che dovrebbero tenerla permanente Perché è così cazzo divertente questa modalità È fuori di testa il modo in cui l'hanno proposto Davvero complimentoni nell'ideazione e nell'esecuzione perché è super 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 divertente Bravi, bravi C'è anche un gioco all'interno del client che si chiama Tournament of Souls Che è una piccola avventura grafica che voi esplorate in cui dovete con Samira attraversare 10 nemici Ci sono dei premi, ci sono icone, c'è un banner per il tuo profilo Ci sono varie essenze, non dell'emporio ma essenze del negozio, dell'evento Quindi potete ottenere dei premi da qui in poi Carino, molto ben concepito, vedrete poi quando lo testerete con mano che è veramente tanta roba È semplice, è una cavolatina, però è sempre una cavolatina fatta molto bene Andiamo a parlare dei campioni, questo vi ricordiamo anche la patch in cui esce Nafiri Anche lei esce il 20 di luglio, il 10 di sera, basta, non dico più altro Atrox, vediamo i suoi danni base diminuire di 5, 10, 15, 20 Ma vedere il suo scaling aumentato del 5, 10, 15, 20% dell'AD nel secondo ranking poi Loro farò notare che questo sarà un buff nel momento in cui prendi 100 di AD dal secondo ranking poi Secondo cast della Q farò comunque 25% dell'anno base in più E il terzo cast sarà 50% dell'anno base in più, ovviamente con lo scaling Quindi dovete considerare che da 100 di AD totale è Basta che superi 100 di AD Che questo vuol dire che con i livelli e quant'altro arriverà un punto in cui diventerà molto più forte Dovrebbe essere se non sbaglio un piccone il livello 9 o il livello 10, non mi ricordo Ho fatto il conto Ma, regà, è un buff gigantesco nel momento in cui arrivi nella fase centrale di partite E anche quelle più avanzate Porco boia, già questo dovrebbe aiutare tantissimo Atrox Anche il fatto che hanno messo un modificatore per i danni sui minion Aumentandolo da livello 6, 11 e 16 in poi Dovrebbe renderlo più attraente anche per il livello competitivo Quindi, nice, Atrox aveva bisogno di un po' di amore Un po' teorilizzato che l'abbiano buffato così Però è giusto che l'abbiano buffato visto che aveva bisogno di un po' di amore Diana, cosa riceve lei? Riceve una modifica a quelli che sono lo scudo base della W Viene aumentato di 5 di scudo base e aumenta anche lo scaling del potere magico del 5% di AP Il danno magico per orb viene aumentato lo scaling del danno dal 15% al 18% per singolo orb Questo vuol dire in totale un 10% di AP di danno in più dal potere magico Tanta roba Buon modo per andare a buffare la build principalmente mirata su AP Ormai le build bruiser fighter like di Diana non sono un granché E questo accento ancora di più di gap perché andare full AP vuol dire avere più scudo, avere più danno E insomma Nice Anche il fatto che abbiano buffato là e di nuovo rinforza il bro build AP che ne vale molto di più la pena piuttosto che andare intermedio ibrido Avrebbero dovuto aumentare i danni base per portarla verso l'intermedio ibrido fighter like Cosa che ovviamente non vogliono fare E carima riducono l'armatura bonus e anche di un bel po' non di 5 come avevano messo sulla patch ma di 10 E quindi Ouch Non me l'aspettavo di 10 C'è un aumento ulteriore del nerf perché sul PBS e sulla preview Avevano messo 5 in meno di armor in magic rest Quindi qua sono andati belli nucleari Buono 10 in meno di armor in magic rest vuol dire che in early game non può traddare così tranquillamente E nel mid game non è una front line a caso che tira danni fotonici e che comunque si cura e tanca nel frattempo Sì sarà comunque un pechino più tancoso quando sarà attiva la W ma non come prima che era una cosa totalmente ridicola Non proprio la roba più divertente del mondo Jax ha osato superare il livello di 52,6% di win rate sopra il diamond Cioè è l'unica fascia di elo in cui viene giocato appunto e ha un win rate abbastanza alto da dire Ok va nerfato L'unica fascia Tutte le altre è sotto il 52% di win rate Quindi vedere un secondo di cooldown aumentato dico ok è un medio nerf a livello di pesantezza E questo è piccolino 50 in mana che diventa 100 di mana Il costo in mana per Jax considerato che non ce li è estremamente alti non è un nerf così gigante È strano vedere Jax nerfato quando ci sono certi campioni che hanno un win rate astronomici E dopo li vediamo nerfati per fortuna Kartus che a me fa morire da ridere Kartus botlane è un campione che viene giocato abbiamo discusso anche il live di questa cosa perché All'inizio ero molto scettico su quanto fosse fare Dico sì ok ha un win rate alto ma ha un pick rate bassissimo E dici vabbè lo giocano in 4 cristiani non è proprio un dato valido Poi vai a guardare che dici ok ma ci sono matchup in cui per forza i cose è più debole no? Non c'era un matchup in cui era debole letteralmente Cioè non c'era un singolo matchup di Kartus a picker in botlane in cui dici Ah ok bella in questo perde automaticamente What the fuck? Cosa che non dovrebbe succedere E quindi penso che sia stata una combinazione di I dati chiaramente fanno vedere che quando qualcuno è bravo a giocare Kartus Ti distrugge una botlane è come se non la giocassi E due il fatto che non ci sono matchup così vincenti contro Kartus a picker in botlane E quindi ho detto Yeah Sai cosa togliamolo Il nerf però è minuscolo Cioè sono due danni, un danno e mezzo, un danno, mezzo danno dalla Q Non riduci lo scaling su potere magico Cioè l'unica cosa che hai tolto è ridurre un pochino la pressione in early game a livello di trade La cosa positiva è che almeno hai ridotto la rigenerazione del mana di 5 ogni volta che uccidi un minion O un campione, qualsiasi cosa tu uccidi Che non è male Perché almeno limita un pochino in early game Kartus Ma non al punto da dire Oh mio dio Questa sarà la grande differenza Cioè comunque Kartus sarà forte Un Kartus giocato bene In maniera efficace Sarà comunque di grande impatto sulla cosi inferiore Quindi se no dico Ok Va bene Va bene Kindred invece questa è una modifica molto sensata Qua praticamente fanno un passo indietro su quella che era la modifica precedente Qua hanno invertito uno di due perché in verità dovrebbe essere un Torna ad avere 610 HP ma torna ad avere invece che 29 di armor torna ad avere 26 perché avevano aumentato l'armor di 3 e diminuito gli HP di 30 Hanno fatto un vabbè ordine strano a cose solite di Riot che sbagli a volte su queste cavolate che non fanno una grande differenza Però sti cazzi 10 danno base in meno sulla Q invece quelli vengono percepiti visto che è una delle spell più spammate in assoluto da Kindred Quando hai la lupa Il lupo attivo di W è molto potente come nerf Anche la riduzione L'aumento del cooldown da 8 secondi a 9 secondi A riduzione della disponibilità della Q Buon modo per nerfare Kindred Rimane comunque super potente E continuate a giocarla Divertitevi come dei maiali Perché quando imparate a giocare Kindred è stupido sto champion In giungla Lissandra ha avuto una serie di quality of life buff pazzeschi Che è un modo molto carino per dire funziona meglio Allora Ad esempio cosa succede I tralli cloni di ghiaccio che vengono generati dalla passiva Continueranno a inseguire il bersaglio finché non esplode il clone Adesso ti seguono all'interno dei bush Quindi non puoi neanche nasconderti dai cloni di ghiaccio E adesso i tralli sono rivelati ai nemici attraverso le mie guerra Così che almeno possono vedere da dove stanno arrivando e dove andranno a fare danno Adesso la Q di Lissandra rallenta tutti i nemici colpiti Non soltanto il primo E adesso casta da posizione post cast piuttosto che pre cast Che cosa significa questa cosa? Che quando tu fai una EQ oppure tu fai una flash Q Se tu parti con l'animazione facendo Q e poi metti il buffering della E o del flash Cosa significa? Ti lanci in avanti e poi parte effettivamente la spell Nice, ottima cosa a livello di utilità, tantissima roba Poi aumentano la cura della Suprema di 10 HP per livello Per la Suprema, quindi bella 990, 140, 190 va a 100, 150, 200 E aumentano lo schede sul potere magico da 20% a 55% Totalmente random questa modifica Però dico, ok, va bene Riot, contenti voi E non solo, migliorano anche l'interazione con gli scatti Perché spesso e volentieri cosa succedeva Lissandra castava la Suprema Un Lucian professionista che vedeva questa cosa Tirava alla E, la Galeforce in flash E non era più neanche più a schermo Però veniva poi stordito nel punto in cui atterrava, per così dire Non proprio divertente Visto che dovrebbe essere un intrappolamento istantaneo quello di Lissandra Bastava mettere che ti intrappolava Faceva un route istantaneo nel momento in cui partiva l'animazione iniziale Però, vabbè, pace C'erano 100 modi per poter modificare questa cosa E renderla un pochino più viable Dando la passiva di Milio viene nerfato ulteriormente Che comunque rimane molto, 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 molto forte A livello competitivo E alto Si rendono conto che potrebbe tornare abbastanza prorompente in competitivo Visto che stanno nerfando altre cosine a livello di supporti E quindi dicono Andiamo per la cautela Nerfiamo subito la passiva da 25-80 a 15-50 Che è veramente esagerato A livello come nerf E i caldi a bracci danno meno movement speed Si parla di da 3 a 5% in meno dipendentemente dal rank Questo è fatto apposta perché il double cast della sua E Rende molto, molto pericoloso il campione In competitivo soprattutto dove positioning e movement speed Possono fare un'enorme differenza Quindi nice, comprensibile l'idea del nerf Allo stesso tempo sono tipo Eh, non era così fondamentale Quando poi c'è tipo Rel che gira per la landa pazza Scatenata Ma viene nerfata anche lei La W di Rek'Sai Viene modificato il danno in modo che sia un pochino più basso Si parla di 5 danni in meno Per single rank non è quella la parte eccezionale del nerf di Rek'Sai Ma andrà a modificare anche il danno della E Che non scala più sull'attacco fisico bonus Che prima ero 85 del bonus AD Ma sul 70% della D totale Che significa AD di base più AD bonus Questo significa che è un enorme buff a livello di scaling E infatti come compensano con un enorme nerf a livello di danno base Si parla di 50 danni in meno su ogni singolo rank della E Che uno guarda, si fa i conti in tasca e dice Lapo, ma è un nerf o un buff? Nella stragrande maggioranza dei casi Non farà quella differenza che tutti pensano Perché ovviamente quando si passa da bonus a total AD Lo scaling comunque è molto positivo Arriverà a un punto di rottura In cui ne varrà molto di più la pena avere il total AD Grazie all'AD per livello che ottiene Rek'Sai Semplicemente per evitare quelle situazioni in early game In cui Rek'Sai prende 3 kill E poi comincia a scoparsi la landa letteralmente da sola Che non era proprio divertentissimo E figuratevi se è divertente farsi scopare da Rek'Sai REL Vediamo l'armatura abbassarsi da 39 a 36 Già un buon nerf questo per ridurla un pochino a livello di tankosità Ma la parte più importante è la passiva Che viene nerfata e anche pesantemente Prima rubavi il 3% dell'armory magic resist Adesso è il 2% Il minimo di armory magic resist passa da 1.253 a 0.82 Questo è molto buono già questo E il massimo di resistenza magica armor che potevi rubare Passa da 15% a 10% In modo che si ha un pochino meno di impatto Una volta che atterra in mezzo a un teamfight E va a fare i suoi danni e i suoi casini Come la vediamo a fare di solito Buon modo per nerfarla Probabilmente verrà nerfata ancora Sono abbastanza convinto di questa cosa Però sappiamo com'è Sappiamo com'è Riot Tende per andare un po' troppo cauta Su certi campioni E quindi vabbè pace Faccio spallucce e dico ok Riot contenti voi Rengar L'Eltregen per 5 secondi viene ridotta da 7 a 6 Per toglierlo dalla fase di corsia In top lane Grazie Riot Siamo molto contenti Per quanto lo incrociamo pochissimo Rengar top E la conversione del danno critico e AQ Passa da 95% A 75% Per evitare che la build Con l'Essence River Il Collector E quelle robe strane Che Rengar ha sempre queste strane interazioni Con gli oggetti da crit A causa degli scaling sul crit In cui vuoi fare oggetti da crit Ma per assurdo sono gli oggetti meno Pensati e concepiti per Rengar Quelli che vuoi prendere come l'Essence River Quindi se l'Eltregen guardi e dici Ok Perché funziona così bene Perché Rengar è stupido Però è un buon nerf E quindi hanno risolto il problema In maniera molto semplice Per evitare di spingerlo troppo Verso una build a critico Che non dovrebbe essere Quella a cui pensa Rengar Shaco Il danno fisico della cubina È aumentato da 50% di bonus AD A 60% di bonus AD Perdonatemi Sarebbe stato un po' troppo forte A 50-80 Anche il bonus del backstep Della pugnata alle spalle Passa da 40% A 55% A questo modo Hai la funzionalità aumentata Della versione da AD di Shaco Piuttosto che quella P Che è sempre un po' il problema di Shaco Hai messo scaling a P Hai messo scaling a D Hai messo danni a P Magici e danni fisici Decidetevi Riot Fate una versione Così che la gente Non deve farsi venire mal di testa E controllare ogni mese Quale build è quella che va Shyvana Vede anche lei una bella modifica Per portarla più verso la build a fighter a D Piuttosto che va per la build a P Infatti vediamo uno scaling aumentato Di 5-10-15-20% Della D Totale Sul danno fisico della Q I prossimi due autoattacchi di Shyvana Hanno 40-45-50-55-60% Attack speed aumentata Il cooldown viene aumentato di un secondo Perché avendo attack speed bonus Adesso dal lato a Q Diciamo che È molto più facile resettare Di conseguenza Un po' di cautela Da parte di Riot Bravi che siete cauti Il danno massimo Adesso scala anche con Un 100 di bonus a D Cioè ogni 100 di bonus a D Fai l'1% di danno Della vita massima Del tuo bersaglio in più Quindi una build Molto aggressiva Può essere estremamente pericolosa Rimane sempre discorso È fucking Shyvana Viene caetata a morte A meno che non sei scarso E non hai la più pallidea Di dove sia Volibear Vede una modifica Dello scaling Sul potere magico Della sua passiva Da 40-50% Per pulire meglio le wave Per quei rari casi In cui vai a andare Per una build a P Poi cosa succede Con la W E una miglioria Dello scaling Sulla vita mancante Della cura Da 8-10-12-14-16 A 8-11-14-17-20 Percento di vita mancante A questo modo In un 3 prolungato Volibear sicura Di più Fine Su Xerath Visto che molti Sono per qualche Cazzo di motivo Non si sa come Maledizione Dio A quelli che Gli ha insegnato Un minimo di ragionamento Laterale 459 di mana E viene ridotto Il mana Da 459 A 400 Quindi questo È un nerf Netto Ma per quale Xerath? Per quello Che non farma I minion Quale Xerath? E quello Che non farma I minion Quello che gioca Support Perché dico Questa cosa È soltanto Mirato al support Perché adesso La passiva di Xerath Che è quello Che ti dà mana E ti permette Di essere così Opprimente Sulla corsia inferiore Come support Viene aumentato Il cooldown Da 12-16 secondi Quindi hai meno Mana di prima Cosa succede però? Quando uccidi un'unità Cioè un minion O un campione La passiva Ti si riduce Il cooldown Di 2 secondi Per unità uccisa Che è un enorme buff Per la corsia centrale E al supporto Non gli hai fottuto un cazzo Perché tu come supporto Non dovresti farmare i minion Adesso Colpire la torre Ti attiva il mana surge Quindi puoi prendere mana Anche autoattaccando una torre L'implicazione Di tutto questo È che In botlink Xerath A meno che non gioca Al posto della di carry E allora quella È una pickery Xerath bot Che è una cosa diversa E farma anche i minion In quella situazione Tu come support Xerath Non farai un cazzo Perché dopo una rotazione Dispel Sei senza mana E hai meno passiva di prima E meno mana di base Di prima Fine del discorso Quindi per favore Quindi per favore Se qualcuno vi dice Vostro amico Vostro parente Qualcuno che dice Xerath supportora Funziona meglio Tirategli un ceffone Ricordategli che probabilmente Il suo dio lo odia Perché chiaramente Non gli ha dato Un grammo di intelligenza O comprensione logica Andiamo avanti Con la suprema La suprema di Xerath Viene modificata Con un proiettile in più E io Durante la patch preview Ho detto Non mi sono espresso Su un concetto Di questa modifica Perché non ero sicuro Di come l'avessero programmato E ho come la sensazione Che abbiamo fatto una cazzata Ora la spieghiamo Un proiettile in più Su ogni singolo cast Da suprema Quindi invece che avere 3, 4, 5 A livello 6, 11, 16 È 4, 5, 6 Il danno magico Viene ridotto Di 20 danni base E viene ridotto Lo scaling del potere magico Da 45-40% Quindi dice Ok hai un proiettile in più Ma ogni proiettile Fa meno danno Il cazzo Se un campione Viene colpito Da un proiettile I proiettili successivi Fanno 20 25 30 danni in più Più il 5% Del potere magico Come danno bonus Questo vuol dire Che se tu colpisci Un campione E poi colpisci Un secondo Il secondo proiettile Fa tra i 20 E i 30 danni in più A confronto con quello di prima E il 5% Di potere magico Ma se tu ne colpisci Due di proiettili Poi adesso fai 40 50 O 60 danni in più Se colpisci 3 proiettili Adesso fai 60 75 90 danni in più E il 15% Del potere magico Capite come questa cosa È veramente stupida Questo è uno di quei momenti In cui guardo Riot E penso Regà ma vi siete accorti Che Xerath Lo stanno anche giocando Un po' in midlane Sia in Asia Che in Europa E che forse Questa è la stronzata Che porta Oh Siamo contenti Di avere un mago In più in midlane Giocato regolarmente Ma questo non vuol dire Portare un mago In più in midlane Nel suo giocato Questo vuol dire Xerath Sarà un rompicoglioni Livello Xante Che la gente Deve imparare A giocarci contro Perché tutti In competitivo Cominceranno a spammarlo Probabilmente Magari non lo spammeranno Perché comunque Ha le sue debolezze Xerath E quant'altro Ma quei 4 stronzi In competitivo Che già lo giocavano prima Adesso lo giocheranno Ancora di più E saranno un dito In culo mondiale Non lo so È quella classica Situazione in cui Può fare veramente Un'enorme differenza Se i pro player Hanno la sbatta Di impararsi un campione Che Conoscendo i pro player Sono Gli esseri viventi Che meno vogliono Imparare nuovi campioni Nella loro vita Se possono giocarne 3 Per 7 anni Sono felicissimi Ma si rifiutano Di imparare un campione nuovo Perché pigri Non sono pigri Sono soltanto testari Eh no ma io devo Saper giocare Nekton Topling Che intanto è sempre in meta E quindi io devo allenarlo Ci sono 30 pig Che lo distruggerebbero Però quelli Impararli mai Stesso discorso Anche per Xante Che alcuni campioni Gestiscono Xante Ma nessuno vuole impararli Perché è noioso Poi se perdiamo Che cosa facciamo Cristo di Dio Alcune situazioni Incomper Vabbè Suco del discorso Xerath È messo molto meglio Di prima Buon per lui Cazzo Xerath Doveva ricevere anche lei Un grosso aiuto E io sono tipo Ok I danni Che io ho Che subiscono le piante Passano da 4 a 3 Quindi Yeah Le piante sono Un pochino Più dancosi Dai danni a OE Da un autoattacco Ranger Passa da 4 a 5 Quindi tipo Ok Non molto bella Questa cosa E adesso Invece di fare 150 danni Per 100 bonus Ai mostri Non epici Va dai 40 100 danni magici Bonus A tutti i mostri Che scala Con i campioni Buona cosa Per rendere Zaira Un pochino Più interessante A livello di Conquista Degli obiettivi Neutrali Come il drago Lera D'eccedere Ma non Oh mio dio Adesso Zaira È broken Va giocata La W Adesso ti dà Subito Due semi Al rank up Quando prendi La prima volta La spell Carino Molto comodo Anche questo Adesso La E Non ti blocca più Dal poter utilizzare Il flash E adesso Il danno La cadenza Di fuoco Della suprema Di Zaira Passa da 4 secondi A 16 secondi E adesso Zaira Camminerà Non cammina più Fino al punto In cui deve castare La suprema Ma Arriva al range Massimo E la spara Lì Dici ok Io sto ammirando La range massimo Di sparare lì La spara lì Instantaneamente Fine Andiamo avanti con gli oggetti L'Axio Mark Questo Molti hanno confuso Perché dici Ok come funziona Questo nuovo scaling Come funziona L'Axio Mark Partiamo da questo Quando tu uccidi Uno stronzo Partecipa a un'uccisione La tua suprema Si riduce del 20% Il cooldown Questo era l'Axio Mark Fino a ieri Adesso come funziona Adesso hai Una riduzione Del cooldown Della tua suprema Che scala Con la tua letalità Quindi tu Stronzo qualunque Che esisti Sulla faccia Di questa terra Se tu hai Un oggetto Da letalità mitico E l'Axio Mark Hai lo stesso Identico effetto Di prima Perché 18 di letalità Più 18 di letalità Fanno 36 Uno fa il conto Il 40% Di 36 Che cazzo è 14,4 Più 5% È 19,4% Che è indifferente Da 20% E quello Era l'intento Di Riot Da lì in poi Se tu buildi Un terzo oggetto Da letalità Un quarto oggetto Da letalità O prendi La cacchio di runa Che c'è presente Nel ramo rosso Quello del sudden impact Che ti dà letalità Immediata Quando fai uno scatto Quando blinki Quando diventi invisibile Quando tua mamma Fa la carbonara Insomma In quei casi Cosa succede? Il cooldown Da tu suprema Si riduce di più Se tu partecipi A una kill Basta Non è una roba complicata In media Gli oggetti Da letalità Ti danno 18 di letalità Quindi Ogni singola volta Che tu prendi Un oggetto Da letalità L'aumento Del cooldown Ridotto Da tu suprema È del 7,2% Fine Questo è quanto Sugli oggetti Che hanno Meno letalità Ovviamente Questo ha un valore Più basso E così via Niente di più Niente di meno È una cosa positiva Per gli assassini Buon per loro Tanto funzionano comunque Solo Q Cioè Anche il competitivo Non fa la differenza Sta roba Perché tanto Nessuno in competitivo Vuole giocare L'assassini La Galeforce Viene aumentato Il cooldown Da 90 secondi A 120 secondi Perché solo Si conto Che forse Era una cazzata Darlo con un cooldown Così basso Grazie Gentilissimi L'Infinity Edge Edge vede il suo attacco fisico Ridurre da 70 A 65 Ma I colpi critici Adesso fanno Il 10% Di danni in più Invece di essere 210% Di danni Che da credita Adesso sono 220% Quindi Belle legnate Da parte Di colpi critici Grazie All'Infinity Edge Ovviamente Tutti i bambini Ringraziano Perché vuol dire Che all'Infinity Edge È buildabile Ancora Che anche prima Era buildabile Adesso è semplicemente Uno spy più forte Nota Dell'autore Porco Giuda Non dovete considerare I mitici Come il primo oggetto Da lasciare Punto Sì Molti campioni Vogliono lasciare L'oggetto mitico Per primo Molti altri campioni Si prendono Felicemente Un qualsiasi altro oggetto Gli adi carry Sono una di queste categorie In cui tu non Se tu rushi Come un cieco Il tuo cazzo di mitico Sei un coglione Che è rimasto A tre mesi fa Di gioco Adesso non funziona più così League of Legends Per gli adi carry Hai 400 No 400 no Dai 10 oggetti Da cui scegliere Scegli un cazzo di oggetto Che ti piace Che ti sembra utile La situazione E poi Builda il mitico Dopo Come secondo Come terzo oggetto Fate i bravi Vi scongiuro Per favore Per favore Il Prowler Claw Vede un aumento D'altarità Da 15 A 18 Per 18 In modo da renderlo Un pochino più interessante Visto che nessuno Lo builda più Il Randwin Vede la riduzione Del danno da critico Da 20% A 25% Per compensare Infinity Edge Buff Padra Che se no I tank subiscono troppo A questa modifica Grande Riot La lancia di Shojin Vede il suo costo ridotto Di 100 gold E la sua vita Aumentata di 50 Carino come buff La riduzione in costo Almeno rende un pochino Viable rispetto ad altri oggetti Che ti rendono più Tancoso E ti permettono di sopravvivere Più a lungo E quindi far più danni Nice Good job Riot La speed visage Rimane abbastanza una merda E quindi aumenta Una resistenza magica Da 50-60 Perché Perché non hai motivo Di buildare sto item Quando esiste una forza Persino il Camtang Turbo È meglio Che nessuno gioca Il Camtang Turbo Sapete perché? Perché è una merda Ma preferisci Quello alla speed Visage Per assurdo Perché? Perché la visage Fa troppe poche cose Rispetto ad altri item La static Vede la sua attack speed Aumentata da 25-30% Il danno sui minion Viene ridotto Di 100 danni in base E adesso Come scala? Cosa succede adesso? Come funziona L'aumento di danno Adesso della static? Prima Scalava Dipendentemente Dalla soglia Di livello a cui eri Adesso Dal livello 9 In poi Aumenta i 10 danni Fine Niente di più Niente di meno Dal livello 9 Quindi rende L'impatto della static Un pochino più debole In early game Soprattutto per quei cazzo di maghi A questo modo Non hanno così tanto Quei clear E a questo modo Dovrebbe essere Un pochino meno attraente Sapete io che cosa penso Della static? Togliete questo merda Di item Non mancava a nessuno Avete sbattuto la testa Contro il muro Per 4 anni Per bilanciare questo item Per renderlo una merda Per poi ucciderlo Dal gioco Perché? Perché qualcosa di inutile Non serve a un cazzo E se lo lasci Non inutile È troppo forte O per il pro play Oppure per noi comuni cristiani Che vogliono semplicemente Ricordarsi perché vorrebbero Ammazzarsi in un mondo Post capitalismo Giocando al league of legends Concludo con questo La sterac è carina adesso Sono 100 gold in meno E 50 hp in più Che rendono sempre molto felici La trinity adesso Cosa succede? Invece di ottenere Attack damage per stack È 6% Per single attack Invece che 4% Ma ora sono soltanto 3 cariche Invece che 5 Questo vuol dire Che la di massimo Invece di essere 20% È 18% È fatta apposta Per rendere la trinity Un oggetto A impatto più immediato Allo stesso tempo Comunque ridurre L'impatto totale In un trade Lunghissimo Perché comunque Dopo i 10 autoattacchi Se fai il conto Un discorso complicato Dopo i 10 autoattacchi Fai meno danni Bella Le summon respelle La ghost Il ghost Le ghost Non lo so Ghost La spettralità Che schifo Il ghost Non solo dura 5 secondi in più Ma viene rimosso Il fatto che Ogni volta che partecipi A una kill Aumenta la durata Dai 4 ai 7 secondi Io non so A chi devo Quale Rioter Devo ringraziare Di questa cosa Ma grazie Perché se io vedo Un altro fottuto ad carry E un altro fottuto top laner Con sta summoner Di merda In cui Oh wow Partecipa in un fight Lo vedi correre Per 40 secondi Fisso Come una scimmia Partecipare nei fight Come nulla fosse Con 0 senso del positioning Ma Non ti importa Perché hai talmente Andamu e speed Resetti su una kill Dio grazie Qualsiasi sia il rioter Gli voglio stringere la mano Per questo change Perché Porco boia Che noia Vedere il ghost Costantemente I jungle buff Vengono modificati Cosa succede Vogliono ridurre un pochino L'impatto di jungle In early game Cosa vanno a fare Adesso riducono il danno Del red buff In modo da renderlo Un pochino Meno di impatto In early game Sono 10 danni base Dal livello 1 A livello 5 E poi incrementa di 5 Per livello Dal livello 6 In poi A questo modo È un pochino più bilanciato In early Anche lo slow È più debole Dal livello 1 A livello 5 Poi a livello 6 In su Torna normale Il range Slow Non viene modificato Perché faceva già cacare prima E quindi Continuerà a fare cacare Adesso Il crest of insight Invece Il blue buff È un pochino più intrigante Visto che l'abilità Di ace Adesso scala Di livello Cioè da livello 6 11 E 16 Il livello 6 È uguale a prima Il livello 11 È più forte Il livello 16 È più forte A livello 1 È un pochino più debole Ma da livello 1 Al 5 Non dovresti condividerlo Con qualcuno Che non sia il jungler Quindi buona così Come sempre Ci sono aggiustamenti Alle aram Che letteralmente Sono cose a caso Perché tanto Le aram Sono per le gag Anche se qualcuno Le traiarda E probabilmente Viene picchiato Dai suoi genitori Per queste cose Il clash Ci sarà un clash a tema Che inizia il 22 E il 23 Di luglio Divertitevi Tanto Quindi crasha il server A quelle ore Ottimo Buono a sapersi C'è la rotazione Dello shop mitico E adesso sono disponibili La prestige Di Valiant Sword Riven La prestige Di Lunar Beast Fiora La prestige Di Star Guardian Soraka La prestige Di Nightbringerly Sin La mythic chroma Di Dunkmaster Darius E la mythic chroma Di Final Boss Vagar Se ne vanno Dal negozio Mitico La True Damage Chiana L'Obsidian Dragon Set Demon Air Brand KDA Akali E la croma mitica Di High Noon Lucian E qua Parla di una cosa È un testo Molto lungo Per dire Soltanto una cosa Fottetevi A voi Mean Maxxer Che volete studiare I dati E scoprire Qual è L'augment in arena Che è più forte Così da suggerirlo Nei vostri video Queste sono Le strategie migliori Per poter vincere La modalità arena E diventare Finalmente Un coglione Com'è che si chiama Non mi ricordo Gladiatore Sì gladiatore Intendevo ovviamente Che ce ne sono 3 milioni Già pronti Di quei tiktok Sicuramente Però almeno Non potranno Non potranno farlo Con dei dati In mano Perché Riot Gli ha detto Allora Su TFT Ci hanno resi conto Che se vi diamo Il win rate Delle varie comp Non pensate Col vostro cervello Quindi sapete cosa Fottetevi La modalità arena Non vi dice Il win rate Degli augment Non vi dice Il win rate Dei campioni Perché Per quale motivo Perché ormai La gente È letteralmente Automatizzata Attiva il suo bot Di merda Che sia Blitz Che sia OP Che sia Che cazzo Ne so Ormai ci sono 300.000 Di Poro Fessor Cazzo del genere Attivano il loro bot E spengono il cervello Spengono Non pensano Non ragionano Su cosa va bene Cosa non vada bene Qual è il build path Quale non è Le rune Non ci pensano Entrano in una partita Con il sistema Già pronti Automatizzato Che glielo fa anche Riot Ma Riot non gli dà Il contesto Su qual è il migliore Qual è Ti dice Queste sono le scelte Divertiti Quelle Quelle sono le cose Che ti da Riot No E invece su questa modalità Non potrai saperlo Ci saranno ovviamente Le tier list Dei content creator E quant'altro Perché quelle ci sono sempre È normale che ci siano Ma quello dici È un content Che è opinione Non c'è uno Un dato grezzo Che ti permette di dire Questo è il migliore Stai zitto E gioca quello E almeno non vedremo Quell'abitudine di merda Di certi player Di League of Legends Di dire Eh ma vecchio Ma quello è un po' Debole in questo meta Da potresti giocare Qualcos'altro Che ormai È onnipresente Come se controllare I pick Dei tuoi alleati Al 100% Ti permetta di vincere Quel game in più Su 1500 Che giochi in una season E chiaramente è Quel singolo game Su 1500 In cui hai detto A un Singed Che Singed one trick pony Che forse dovrebbe giocare Qualcosa tipo Darius o Garen E lui ha Alloccato Darius e Garen Perché è troppo gentile Con te E poi ti ha trollato La toplay Perché non sapeva Effettivamente Che cazzo fare Con Darius o Garen E poi dici Eh no è colpa sua Che è scarso E lui vuole Semplicemente giocare Il suo cazzo di Singed Che è Singed Per il 90% Di persone Ma Singed È la bruciatura chimica E da lì deriva Il nome di Singed E quindi lo chiamerò Singed Per favore Smettete di basarvi Solo sui dati E io mi odio Perché io partecipo A questo problema Facendo le cazzo di Tierly Sono tornato a farle E mi sento in colpa La farò anche Per la patch Delle Ranked Se mai Riot Togliesse i dati Delle Ranked Da League of Legends Dai siti Tipo l'Analytics E robe del genere Sarei così contento Così contento Forse la gente Proverebbe a giocare Quello che gli piace Piuttosto che giocare Solo quello che è in meta E basta E niente Ho concluso con il mio rant Signori e signori Grazie mille a tutti quanti Io vi auguro Una buona giornata Un buon Secondo split di Ranked E divertitevi Nella modalità arena